Ok, fa molto freddo, però ne resistiamo comunque perché la voglia è tanta. Allora adesso vorremmo iniziare con alcune iniziative. Già partiamo subito il 28 di dicembre a Brugnato, ci sono le migliori tre squadre del calcio a 5 Spezzino. C'è il Sarzana che milita in Serie C e qui abbiamo il nostro suo presidente Giampi Tassola. Per cercare di dare una mano a questa squadra che secondo me dà anima nella Valdivara, anche se c'è il Brugnato che è una bella squadretta e secondo me possono nascere altre nuove squadre per cercare di contribuire a questo mondo del calcio a 5 che è un mondo molto bello, che dà tanta soddisfazione ai giovani e anche ai vecchietti che magari hanno lasciato il calcio a 11, è vero? Il calcio a 5 è molto bello, mi piace perché è molta adrenalina, hai 60 minuti che vai in campo e grinta. Allora noi vogliamo creare questa serie di eventi perché così diamo agio e facciamo conoscere un po' questo mondo nuovo e cerchiamo di portare un po' di soldi qui a Rocchetta e secondo me non è che ce ne servono tanti perché abbiamo il tendone, abbiamo tutta la struttura, ci vuole solo un po' di rinforzi. Intanto bisogna rifare, basta una gettata a terra come si deve e ritirare sulla tensostruttura e poi rifare o il sintetico o il linoil, bisogna vedere un po' un attimo quello che è. Sicuramente con linoil si può fare più attività, oltre che fare calcio a 5, potrebbe essere un centro di accoglienza per bambini, per ginnastica, per gli anziani e per tutta una serie di cose. Forza Rocchetta! Forza Rocchetta, questo è il gesto di Rocchetta, oggi sono un po' abbacchiati perché sono ancora all'alluvione degli occhi però sono forti, sono forti. Allora forza Rocchetta ragazzi, datici una mano! Grazie, ciao!